Iniziamo lavorando un uovo con 100 g di zucchero semolato Aggiungiamo 50 ml di olio di semi di girasole 100 ml di acqua a temperatura ambiente In 200 g di farina 00 vado ad aggiungere 8 g di lievito per dolci e l'aggiungo un po' alla volta Aggiungiamo 50 g di zucchero semolito Aggiungiamo 50 g di zucchero semolito Vado quindi a sbucciare mezza mela l'altra metà la terrò per decorazione e 250 g di prugne Le mie sono prugne nere e potete anche usare le classiche prugne gialle Aggiungiamo 50 g di zucchero semolito E un'abitata di olio di generale Iniziamo 50 g di esercizzi Grazie a tutti. Riprendiamo la nostra base e ci aggiungiamo la frutta. Io ho già oliato e infarinato uno stampo da 24. Vado a sbucciare l'altra mezza mela. E inforniamo il tutto a 180 gradi per circa 40-45 minuti. Fate la prova a stecchino per verificare la cottura interna del dolce. Come vedete la mia non crescerà tantissimo quindi non sarà altissima. Se la volete più alta dovrete utilizzare una teglia un po' più piccola. Ed ecco la nostra ciambella di mele e prugne appena sfornata. Facciamola raffreddare un po' quindi potremo toglierla dallo stampo e decorarla. Se la ricetta vi è piaciuta vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video o ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete. Attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qual volta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margie! Grazie a tutti! Grazie a tutti!